Ben trovati alle TG Med Sport, il Palermo contro il Pescara potrebbe giocare con un sistema di gioco ancora più offensivo, almeno questo ha lasciato intendere Beppe Iachini che sta continuando a provare tante soluzioni in avanti con basket e Dybala che ormai sono insostituibili. Sì, soprattutto per provare a dare un posto da titolare anche agli altri attaccanti che ormai stanno recuperando, parliamo di Hernandez, di Belotti e ovviamente Lafferty. Dunque tante soluzioni offensive per Beppe Iachini, sempre però cercando di non smarrire l'equilibrio, ma ormai i 9 punti di vantaggio autorizzano anche a gestire il lavoro settimanale con un po' più di tranquillità. Intanto rientra a Palermo anche Michel Morganella dopo l'operazione per la riduzione delle sette fratture al volto dopo l'incidente con Crainch a Cesena. Ovviamente è difficile poter prevedere il tempo di recupero e quando rivedremo in campo Morganella che sicuramente riprenderà a giocare con una maschera protettiva. Dicevamo di esperimenti tattici per Giuseppe Iachini, argomento che abbiamo trattato insieme a Salvatore Geraci. La cosa più carina è stata che alla mia curiosità di sapere come i giocatori gli avevano rivolto gli auguri, lui mi ha risposto no, 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 sono io che non voglio gli auguri, voglio che gli auguri me li facciano sul campo. Ecco, il solito Iachini, proprio Testardo, uno di quelli che anche ieri nel giorno del suo onomastico ne ha provate tante e di tutti, ha finito tardissimo e soprattutto ha rilanciato questa idea di Vasquez a ridosso delle punte, cioè due attaccanti e Vasquez dietro. Lui l'aveva detto, lui nasce attaccante ma può giocare a centrocampo, proprio a far significare che è un elemento aggiunto, una possibilità nuova nello scacchiere del Palermo. Certo, questo comporta anche il sacrificio di Gennaro, un giocatore che ha visto poche volte la luce, che è stato recentemente infortunato e che piano piano si sta ritrovando, ma non c'è dubbio che Iachini abbia fiducia in Vasquez e soprattutto non soltanto nelle qualità di un giocatore o di un altro giocatore, ma nelle formule che il Palermo può attuare. Cioè il Palermo parte in un modo, poi ha sempre in panchina delle carte vincenti e questo a testimonianza di quanto alto sia il valore di mercato della squadra. Vigilia per il Trapani che aspetta la sfida contro il Varese al Provinciale, dopo il successo contro il Latina. In sala stampa si è presentato il direttore sportivo Daniele Faggiano, che nonostante i 45 punti in classifica, in questo quarto posto insieme a Crotone e Avellino, ha detto che il nostro obiettivo rimane la salvezza. A me scoccia quando dicono che siamo fortunati. Mi scoccia. A Latina fortunati, a Latina fortunati. Qualcuno deve guardare le partite in generale. Ma non, attenzione, non dico giornalisti, mi scoccia. Pure girare in giro, chiamati che mi arrivano da Milano, da Roma, fortunati, tre punti. Siccome io non è che dico che sono in debito con la fortuna, io me la gioco sempre. Però al 93 il signor Pagliarulo ha colpito di testa, che secondo noi era un gol fatto già. Il signor Pirrone era lì. Vuol dire che tutta sta difesa, queste barricate non c'erano. Perché al 93 se stai lì vuol dire che stai giocando la partita. Puoi che gli avversari sono più forti, che la squadra è più quadrata, che ci può stare. Però io la fortuna me la vado pure a cercare. Come quando me la sono cercata col Pescara. Perché se Rizzato non fa quel cross in mezzo, giusto? Invece di stare attaccato dietro in difesa, quelli non fanno autogol. Quella è. La nostra forza è il gioco. La coesione del gruppo, il gioco. Non buttare la palla. È normale che a volte soffriamo, perché non possiamo sempre giocare alla grande. Questa è la situazione. Il Catania ancora in ritiro a Ragusa. Guarderà con particolare attenzione la sfida di questa sera tra Fiorentina e Juventus. Proprio la Juventus arriverà al Massimino domenica sera nel posticipo delle 20.45. Dunque potrebbe essere anche un modo per trovare i bianconeri più stanchi e poterne approfittare. Anche se la partita ovviamente è proibitiva. Continua l'isolamento della squadra di Maran. Invece noi, come di consueto, ogni giovedì apriamo la pagina dedicata alla pallavolo. Partiamo prima dalla Serie B1 femminile con la Sigel Marsala che cale il poker. La marcia ormai verso i playoff promozione procede con passo spedito. Dopo i successi con Casal De Pazzi, San Vito e Corato, la squadra di Campisi ha incamerato la quarta vittoria consecutiva battendo con un perentorio 3-0 in casa la prima donna Bari. 25-20, 25-12 e 25-13 i parziali. Un successo che consente alla pallavolo Marsala di portarsi ad una sola lunghezza di distanza in classifica dalla capolista Acragas Agrigento sconfitta al tiebreak ad Arzano. Per la Sigel sabato visita il fananino di coda Potenza con il preciso obiettivo ovviamente di incamerare la quinta vittoria di fila. Dalla B1 invece passiamo in B2 femminile con Landros Palermo che invece esce sconfitta 3-0 a Castelvetrano. A 17-18 e 15 i tre parziali contro la pasta Primerucci. Una formazione largamente rimaneggiata per Giancarlo Caccamo. Ovviamente in assenza delle due schiacciatrici Greco e Magherini e dell'opposto Stan Campiano. Tutte alle prese con vari problemi fisici. Comunque Landros non è mai stata di fatto mai praticamente in partita. Dunque rimane a quota 18 punti in classifica al nono posto con un vantaggio sempre di 8 punti sulla penultima posizione occupata dal Pizzo che invece nel turno precedente di campionato ha riposato. Sabato si gioca alle Pala Don Bosco. Arriva il Gallico. Ne abbiamo parlato con il tecnico Giancarlo Caccamo. Ogni vittoria aiuta la classifica, aiuta il morale. Prima arrivano i punti necessari alla salvezza e meglio è. Anche se siamo messi in maniera buona in classifica. Abbiamo diverse squadre sotto e tutti gli scontri diretti li abbiamo in casa. Quindi comincia a diventare una classifica più consona a quelle che erano le aspettative all'inizio del campionato. Certo, è una squadra comunque una partita difficile. Non ci tiriamo indietro. Comunque abbiamo giocato con altre squadre di un certo livello e abbiamo giocato quasi sempre alla pari in casa. Quindi perché non provare anche se, ripeto, abbiamo qualche problema fisico da parte di qualcuno. Ma senza nessun timore verso nessuno, verso nessuna squadra, verso nessuna giocatrice andremo in campo. Ce la metteremo tutta per portare i tre punti dentro. Vi ricordo che tutte le edizioni del Tg Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione, personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti. Aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, Rotonda Viale Lazio. Infoline 091-784-6193. Presenti anche su Facebook. www.edilizia-piva.it www.edilizia-piva.it Ciao Grazie.